cinema. Dalle intercettazioni telefoniche dell'inchiesta su Vittorio Emanuele di Savoia viene fuori che i posti in consiglio di amministrazione a volte servono ad avere funzionari corrotti. Per ottenere le licenze sul gioco d'azzardo il principe non lesinava soldi, ma il direttore dei monopoli di stato Giorgio Tino, oltre alla mazzetta, arriva a un posto nel consiglio della scuola di cinema. Concessi nulla osta, Giorgio Tino chiama il portavoce di Alleanza Nazionale Francesco Proietti Cosimi, che gestiva gli affari di Vittorio Emanuele. Io sono stato segnalato, no? Da Siniscalco. Non è una questione economica, perché non c'è quasi una lira, ma è una questione solo di interesse professionale, diciamo così, no? E sono segnalato per un consiglio dell'amministrazione per la fondazione lì di Cinecittà, Istituto Luce. Non mi ricordo, una cosa del genere, no? Non lo so, vedo che c'è qualche ritardo, ho cercato di informarmi e parrebbe che... No, domani quando ritorno mi informo subito. Come no, ci mancherebbe. La nomina alla fine arriva e adesso Giorgio Tino non ci rilascia interviste. Ha letto tutta la questione che lo riguarda a livello della... tutta la storia di Savoia, in cui lui è... cioè lui era sotto inchiesta, per cui lui non sta rilasciando interviste ai giornali, fino a che non ci sarà l'interrogatorio, per cui... Eccola la scuola di cinema, il famoso centro sperimentale, dove hanno insegnato i maestri italiani, Blasetti, Rossellini, De Sica, Visconti. Nel consiglio ci sono Dante Ferretti, Giancarlo Giannini, Carlo Rambaldi, Massimiliano Perri e, come abbiamo visto, Giorgio Tino, presidente e Francesco Alberoni. Prende 90.000 euro, lordi all'anno. La scuola gli paga anche l'affitto di questa casa, in via Sistina, uno dei quartieri più ricchi di Roma. Proviamo a chiedere a lui della nomina di Giorgio Tino. Non ho la minima idea. Questa cosa lei non la... cioè... Non so niente. Non so cosa ha detto nelle intervistazioni, non ma... Ma lui è molto interessato, è lui un cineasta. Cioè, lui si occupa, lui è un cinofilo, quindi lui ha una... Sotto interesse per il cinema. Io penso che questo abbia giocato. Cinofilo vuol dire che ama i cani. Non sappiamo se ama il cinema, ma dal suo curriculum, cineasta non... Grazie.